Può essere una motivazione il fatto che abbia avuto un incidente secondo loro perché è stata fuori, perché è stata fuori, secondo voi credete che sia per questo motivo che l'abbia lasciata fuori? E loro devono stare a casa tutti, perché gli incidenti... Tutti che facciamo questo lavoro facciamo incidenti. Chi viaggia in strada con un autobus è una grossa responsabilità... Siamo soggetti a tutti gli incidenti. E' chiaro che l'incidente può succedere, uno non può farne per 30 anni e uno ne può fare uno ogni due giorni, perché noi lavoriamo anche in una città dove il rispetto delle regole non ci dà nessuno, solo l'auto ferro-trambiere deve rispettare il semaforo, deve rispettare il passaggio pedonale, macchine parcheggiate in seconda, terza pila, abbiamo delle situazioni veramente pesanti. Però noi abbassiamo la testa per senso del dovere e continuiamo ad andare avanti. Però non penso che la causa sia un incidente, perché sennò dovevano licenziarsi a tutti, perché io ho 20 anni di azienda, avrò fatto 3-4 incidenti, purtroppo inevitabili, perché noi facciamo di tutto per evitare l'incidente, ma a volte l'incidente lo sappiamo, succede. Poi uscire alla mattina e dopo due secondi, anche dopo 30 anni, fare tre incidenti in 10 metri, non penso che questa sia una causa. Io penso che la causa sia che Jessica si è uscita dal gregge, ma non in modo arrogante, è uscita dal gregge in modo intelligente, ha posto delle... Adesso il suo contratto, purtroppo qua hanno fatto degli spezzatini, siamo qua in tre, tre contratti diversi, hanno fatto degli spezzatini, però come la conosco io da collega da un anno, perché io in deposito ci vengo sempre tutti i giorni, mi sembra una persona sempre stata corretta, educata, ha sempre fatto quello che gli hanno chiesto, se uno puntualizza qualcosa, dice guarda per me questo servizio adesso non lo so, ha avuto dei problemi che in effetti bisogna capire sempre a fondo, se questa cosa non va, tu non puoi lasciare a casa la gente, allora se io ti dico che l'auto non va, cosa fai? Mi lascia a casa domani, cioè devi prendere e dire ok, è un problema, dobbiamo vedere di risolvere questo problema, perché se a me mi assumono per guidare il 12 metri, poi mi danno in mano il 18 metri e io come faccio? Scusami, io sono stato assunto per il 12 metri, non per il 18, di conseguenza ci sono delle cose, io la chiamerei un po' arroganza da parte di qualcuno che evidentemente pensa di essere intoccabile, vogliamo vedere se è veramente intoccabile. Non è motivo del suo contratto, voglio dire, oppure perché ha avuto un incidente, probabilmente soltanto alzando un po' la testa, dicendo delle cose, non è il tipo comune e quindi non va bene all'interno della gente. Non è una cosa sull'incidente, l'incidente non è che io ho fatto un incidente, io ho toccato semplicemente un muretto facendo una manovra, questo è quello per cui io sono stata chiamata a Salmini in direzione disciplinare e mi hanno tolto un'ora di lavoro, quindi io pensavo fosse finita lì. Io ho un altro richiamo, perché una volta in un anno sono stata male e ho chiamato la malattia in ritardo rispetto all'orario di presentazione del lavoro, però prima di chiamarla malattia ho chiamato in deposito per vedere se era uscito il servizio, per vedere cosa potevo fare, anche perché è solo un anno che lavoro qua, una volta sono stata male. Anche lì mi hanno chiamato il disciplinare, mi hanno tolto un'ora di lavoro e quello io non l'ho mai contestato, ho sbagliato e ho pagato, basta, io pensavo fosse finita così. Tra l'altro non è neanche il primo lavoro che fai qua? No, prima di venire qua ho lavorato in un'azienda privata, sempre di servizi di noleggio Italia-Estero e abbiamo dovuto, tutti quelli che vengono assunti su questo servizio devono presentare almeno un anno di buste paga per vedere se tu hai fatto effettivamente Italia-Estero, quante trasferte hai fatto, bene o male, quindi siamo già scelti. Cioè il problema è la politica aziendale di assumere i laboratori e avere l'estrema flessibilità poi con dei salari di merda tra di noi, dal punto di vista, non è che ci sono dei vivete con dei soldi. No, è una parte salariale notevole per fare quel servizio che fate durante giorno e notte, eccetera. E quindi assumono delle persone che però vogliono pagare di meno tra l'altro e poter poi eventualmente licenziarle come vogliono loro perché è più flessibile e con delle condizioni di questo tipo. Volevo dirti soltanto, ma cosa ti aspetti eventualmente dall'azienda? Ti hanno offerto delle soluzioni perché in televisione sentivano una trasmissione una sera e dicevano che ti hanno offerto tre occasioni e te le hai rifiutate. Che occasioni ti offriva l'azienda? L'occasione, solo una proposta mi è stata fatta, di andare a lavorare presso Zani Viaggi con un contratto di 12 mesi, con 11 mesi di prova. Ovviamente ho rifiutato anche perché io sono qui per rientrare in ATM, possibilmente a tempo indeterminato, visto che io la mia prova l'ho già fatta. Quindi è una lotta, diciamo, che tu la fai per poter rientrare, ma credo che sia, da quanto sento anche dei tuoi colleghi, una lotta un po' di tutti perché riuscendo a vincere su questa questione significa avere più forza anche sulle altre questioni che gli altri lavoratori hanno, no? Giusto, ma in effetti è la verità. Poi adesso le motivazioni, lei le ha spiegate, mi sembrano che siano sincere. Bisogna capire perché l'azienda prende una persona un anno e la lascia a casa e se non dovesse prendere più nessuno, allora dico ok, non c'era più un posto di lavoro, abbiamo perso un servizio, ci dispiace Jessica, grazie della tua collaborazione, ma qui lasciano a casa una e ne prendono altre. Noi come organico personale viaggiante, sto parlando, siamo sempre sotto perché abbiamo sempre avuto problemi di ferie, abbiamo sempre avuto, cioè, tanti problemi di permessi o di cose perché… Sì, facciamo straordinari, diciamo, adesso ormai anche con la legge europea sono state abbassate 25 ore a testa, sì, 250 ore a testa. Lo straordinario, allora, io sono una persona che di straordinario è sempre fatto, perché avendo una moglie e tre figli, allora avevo venuto a pagare, grazie a Dio, adesso ho finito, però lo straordinario perché sono obbligato a farlo piuttosto che a passare insieme alle ore con la mia famiglia, perché con uno stipendio da 1.550 euro in cinque, lavorando da solo, non si vive. Cioè, io sono cinque anni che non vado in ferie, ma non è che chiedo niente, a me non mi interessa. So rinunciare per il bene dei miei figli, cioè, sto facendo questo per avere un futuro per i figli, ma se poi i miei figli si trovano in queste condizioni, vuol dire che allora io ho fallito. Se muore Sansone deve morire con tutti i filistei, cioè, non è una cosa di cattiveria, è che dobbiamo imparare a capire che non ci sono più le pecore, non siamo animali, siamo esseri umani, noi diamo del nostro e a volte più del nostro, perché qua tutto il personale viaggiante, ci sono persone veramente squisite che danno più di quello che dovrebbero dare. mettono a posto gli autos ultimamente, quando esci, per non creare disservizio. E posso dire che abbiamo trovato collaborazioni dai graduati, che capiscono questa situazione. Cioè, posso capire che è una trasformazione, però non devi pagare sempre quello che è sotto, la trasformazione la devono pagare tutti. Paga pantaloni, insomma, sempre. Cosa state facendo dal punto di vista, ho sentito che volete fare anche una cassa di resistenza rispetto a questa lotta? Sì, è partita questa cassa di resistenza che un ulteriore sostegno a Jessica, sia dal punto di vista prettamente economico, ma è soprattutto un motivo di un abbraccio, un abbraccio nel vero senso della parola, nei confronti di una, ripeto, di una lavoratrice che ha subito, che sta subendo un torto, di cui l'ATM deve dare delle motivazioni. delle motivazioni e bisogna far sì che l'ATM ritorni sui suoi passi, come dicevamo prima. Quindi la cassa di resistenza va a sostegno ulteriore e a far percepire la solidarietà che c'è attorno a Jessica, che sta subendo questo torto assolutamente ingiusto.